L'arte ha aperto, ha pubblicato il 14 di ottobre il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nei comuni di Imperia. Questi alloggi quindi sono ubicati nel comune di Imperia, che è il comune capofila del Bacino. Poi questi alloggi li troviamo anche in comuni più piccoli, come Borghetto, Cesio e Pietra Bruna e poi anche per gli alloggi, siti nel comune di Anomarina. Le domande per poter accedere a questi alloggi possono essere già presentate e il termine di ultimazione per la presentazione è il 22 di novembre. Presso l'azienda, ma anche presso i comuni di residenza, sono disponibili i modelli di domanda che devono essere compilati in tutte le parti e si tratta di un'autocertificazione e con la firma di questa domanda si attesta di avere i requisiti per poter accedere. Quali sono i requisiti più importanti? La cittadinanza italiana o la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea oppure si può essere anche cittadino extracomunitario. In questo caso bisogna avere o il permesso di soggiorno illimitato o il permesso di soggiorno almeno biennale con regolari attività di lavoro subordinato o autonomo nel territorio. Avere, importantissimo lo dico, è una nuova disposizione, la residenza o l'attività lavorativa in un comune del bacino C da almeno 5 anni. Inoltre, non bisogna avere delle proprietà nella provincia di un alloggio adeguato e altra importanza è non aver avuto delle condanne penali superiori ai 5 anni, non aver avuto delle procedure di rilascio da un alloggio pubblico negli ultimi 5 anni e, importantissimo, bisogna fare l'ISE da esibire questo ISE, il valore indicativo, non deve superare i 17.000-20.000 se si tratta di nuclei familiari monocomponenti. Le domande possono essere presentate, anzi, devono essere presentate qui all'arte o a mano e l'azienda assiste, aiuta gli utenti nella compilazione delle domande e devono essere presentate qui all'arte o a mano oppure per raccomandata. Invece, i residenti o coloro che svolgono l'attività in un altro comune, non di quelli principali, per il tramite del comune di residenza. Grazie.